La seconda vita sportiva di Samuele Boggi, difensore centrale del Grosseto nell'epoca ruggente del primissimo Piero Camilli, si chiama foot golf, disciplina che ha qualcosa del calcio e qualcosa del golf, nel senso che si pratica su un campo da golf usando però i piedi per mettere la palla e non la pallina in buca. Samuele è l'unico mare in mano nel giro della nazionale italiana di foot golf, nazionale che in questo fine settimana si è data convegno con una cinquantina di atleti al Pelagone Golf Resort di Cavorrano per uno stage di allenamento. Come spiega Boggi, vincere nel foot golf è diverso dal vincere col Grosseto. Questa è più una passione in cui si cercano delle soddisfazioni personali. Vincere a Grosseto è stato, oltre al mio lavoro, è stata una soddisfazione anche per tutta la città che purtroppo ora sta vivendo anche dei momenti difficili come sportivamente parlando e mi auguro veramente che tornino nelle categorie che più li competono perché vederli soffrire così nei professionisti è veramente un peccato. Il campionato del mondo di foot golf è in programma negli Stati Uniti la prossima primavera. Queste, nelle parole di Boggi, affinità e divergenze tra calcio e foot golf. Sicuramente l'atteggiamento e la preparazione mentale è molto più simile a quella del golf, oltre a tutte le regole che derivano dal golf. Come atteggiamento, essendo gare abbastanza lunghe, si sfiora le tre ore di gioco, tenere la concentrazione per tre ore è un pochino più complicato che magari vincere un duello su un campo da calcio, quindi credo che sia molto più simile al golf che al calcio. Il Pelagone ha investito un milione di euro per il rifacimento dell'impianto di irrigazione. L'impianto di irrigazione era una cosa fondamentale per la sopravvivenza dell'erba, del clima e della giocabilità durante i periodi estivi perché siamo in Maremma, alte temperature, vento caldo per cui l'erba difficilmente sopravvive. Sentiamo ora come capitano e vicecapitano della nazionale italiana di foot golf commentano la tre giorni che si è svolta al Pelagone. In questo fine settimana al Pelagone c'è una tappa molto importante del campionato italiano e soprattutto c'è uno stage della nazionale che deve servirci per poter preparare le cose al meglio per il mondiale della prossima stagione. In questo gruppo c'è una buona fetta che sicuramente parteciperà al mondiale, non sono tutti perché si qualificheranno più di 60 persone, però ci si qualifica tramite un ranking. Adesso queste sono le persone che sono fra virgolette qualificate in questo momento, ci saranno altre persone che prenderanno il posto di altri e come ho detto già prima è un'altalena quindi c'è chi entra e chi esce e continuerà a giocare così.